Su corner del nuovo entrato del Piero, tiro e assist di un Porrini inconfortante crescendo e proprio Conte a sblocchiare il risultato. Juventus 1, Piacenza 0, con una dedica delle cese a Trapattoni che aspettavamo per gli auguri nei nostri studi. La partita si chiude con il raddoppio della Juventus ed è un cross di dilivio servito da Conte a consentire a Ravanelli la stocchiata vincente.